Il Silvio Berlusconi stratega sta continuando a muovere sullo scacchiere per arrivare fino al Quirinale. Così, un po' inaspettate, le prime le parole di apprezzamento per il leader M5S, Giuseppe Conte, ha un po' il mio stile. E ora, in un'intervista al Tempo, il sì al provvedimento simbolo dei 5 stelle, il reddito di cittadinanza aiuta i poveri, poi il corteggiamento finale, M5S, come Forza Italia, è nato per cambiare il paese. In un'intervista al direttore Franco Bechis, il leader di Forza Italia ha commentato positivamente il reddito di cittadinanza, la misura di sostegno economico alle fasce più povere della popolazione introdotta dal primo governo Conte e recentemente prorogata, con delle modifiche, anche dal governo Draghi. Berlusconi ha detto, per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza gli importi che sono finiti a dei furbi che non ne avevano diritto sono davvero poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che il reddito è andato finalmente a contrastare. Una posizione, quella del leader di Forza Italia, completamente opposta a quella dei suoi alleati del centrodestra. Salvini e Meloni, infatti, da tempo si battono, così come, nel centrosinistra, il leader di Italia viva Matteo Renzi, per l'abolizione del reddito di cittadinanza. E proprio Salvini ribadisce il suo no al reddito di cittadinanza. Chiederò un incontro a Draghi in settimana, perché è necessario trovare subito altri soldi per bloccare gli aumenti delle bollette. E aggiunge, è la cosa più urgente, milioni di famiglie e di imprese rischiano di vedersi staccare luce e gas. Servono almeno 3 miliardi, si taglino agli sprechi e ai furbetti del reddito di cittadinanza. Musica Grazie.